Ciao ragazze, nuovo giveaway e come premio ci sono un po' di prodotti per il viso firmati in Nova e dei prodotti per le unghie dell'OPI e sono tutti i prodotti che mi ha inviato una profumeria online che si chiama, credo che si pronuncia così, Mont Parfum, si scrive Mont Parfum però voi siete gentili perché non ho mai studiato francese, avrei voluto studiare francese ma poi sono finita nella classe in cui si studiava tedesco, quindi non so parlare francese brutta scelta, brutta cosa, penso che si lega a Mont Parfum e ad appunto una profumeria online che ha messo a disposizione questo premio per voi il primo prodotto che voglio farvi vedere è questo mascara appunto di Nova si chiama Silplodige ed è un mascara allungante, volumizzante e incurvante è bello cremoso ed è composto da fibre, quindi dà un bel effetto sulle ciglia poi c'è questo correttore sempre di Nova, si chiama Staminal Concealer ed è questo correttore a stick perché vedete che c'è questo pennellino da cui viene fuori il prodotto e oltre che come correttore è perfetto per andare a illuminare questa zona perché rimane molto chiaro e quindi illumina tantissimo gli occhi poi come terzo prodotto per il giveaway c'è anche questo eyeliner che è molto 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 bello molto particolare, si chiama Rainbow Eyeliner, è il numero 58 ed è particolare perché è un eyeliner perlato è questo marrone che però ha dei brillantini anche verdi, rose, è molto bello, molto particolare per le labbra c'è questo Lip Gloss, si chiama Lip Shine Volume, è un uccide labbra volumizzante quindi serve per rendere le labbra un po' più voluminose, più piene ed è questo bellissimo rosa fucsia, questo è il numero 70 e come vedete rimane bello scrivente e ha questo effetto vinilico a specchio sulle labbra poi tornando agli occhi c'è questa palette sempre appunto di Nova questa è la numero 603 e all'interno ci sono questi quattro ombretti sul rosa, sul lilla e sul viola poi per il viso c'è questa terra bronzante, questa è la numero 53 ed è una terra bombatta cotta, ha una texture soffice e leggera e rimane uniforme sul viso e poi passando alle unghie ci sono questi due smalti della OPI che secondo me sono carinissimi, li ho scelti io e specialmente questo rosa è molto molto bello infatti in tutti i video in cui ce l'ho su in tantissimi mi chiedevati di questo smalto questo è il Mode About You e vedete che è questo rosa baby, questo rosa molto delicato, molto carino e poi c'è questo smalto sempre dell'OPI, anche questo è un colore vedete molto delicato, molto leggero questo va più sul beige e si chiama My Very First Knockwurst e poi come ultimo prodotto in pagno per questo giveaway c'è questo smalto adesivo per unghie dell'OPI questo è il Gold Lace e vedete che c'è questo pizzo dorato con queste parti nere deve essere molto carino sulle unghie, non l'ho ancora provato perché fino adesso ho provato i due smalti però me lo vedrete sicuramente nei prossimi video, comunque è smalto al 100% e basta, quindi questi erano i prodotti in pagno per questo giveaway io ringrazio questa profumeria, la Mon Parfum per averceli inviati e come sempre per partecipare dovete essere iscritti al mio canale, quindi vi lascerò qua sopra il link e l'iscrizione avete tempo 7 giorni da quando caricherò questo video e tutti i commenti che troverò sotto questo video parteciperanno all'estrazione finale tutte queste cose comunque come sempre ve le metterò giù nell'info box e come sempre vi auguro tantissima tantissima buona fortuna e spero appunto che questo giveaway vi piaccia un bacio, ciao!